Conquistando il terzo posto tra i 97 progetti nazionali presentati per il bando Italia City Branding, Pesaro ha ottenuto un nuovo finanziamento di 100.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la progettazione di una residenza artistica all'interno di Palazzo Ricci. Residenza artistica al cui interno è prevista la realizzazione di 50 posti letto che permetteranno di accogliere artisti internazionali, studenti del conservatorio, ospiti del off oppure turisti. Gli ottimi risultati raggiunti, ha sottolineato l'assessore alla cultura Daniele Vimini, permetteranno di ampliare le linee di finanziamento destinate ai lavori e alle attività della Cittadella della Musica. Di eccezionale importanza anche l'annuncio dell'ottenimento di altri 6 milioni di euro per la ristrutturazione del conservatorio Rossini. Credo che sia un momento storico importante perché il conservatorio Rossini è un'eredità prestigiosa per la nostra comunità, è l'unico conservatorio che si è costituito perché un illustre cittadino Rossini stabilì che erede universale fosse il comune di Pesaro con l'impegno a realizzare allora, si diceva, un liceo musicale. Cosa che è stata realizzata? Si è dato vita ad una fondazione per gestire il patrimonio, il conservatorio negli anni è diventato statale, eravamo arrivati ad una conclusione non facile perché il conservatorio ha aumentato enormemente, da pochi posti che aveva un tempo, oggi ci sono 800 studenti di cui il 10% universitari. La fondazione non ha i mezzi che aveva un tempo per sostenere un piccolo conservatorio, non eravamo ammessi alla possibilità di accedere ai finanziamenti statali perché non avevamo la proprietà e con questo emendamento, che è frutto di un'azione collettiva congiunta tra il presidente della fondazione, il sindaco, il vice sindaco, il sottoscritto, c'è stato un contributo anche importante del prefetto di Pesaro che è stato sensibilizzato rispetto a questo tema e ha mantenuto dei rapporti con Roma, si è riusciti ad ottenere un risultato che è storico per la città e ci consente quindi di fare degli interventi indispensabili che vanno dal tetto ai temi relativi al miglioramento della sicurezza, agli infissi che sono ovviamente molto vecchi e l'ambiente è difficile riscaldarlo, a fare la parte impiantistica nuova, a fare tutto quello che si renderà necessario per rendere questo conservatorio come giusto che sia uno dei più belli d'Italia e quindi uno dei più belli del mondo. Le tempistiche sono approvato in via definitiva la legge finanziaria che passerà come tutti ormai sapranno con il voto di fiducia perché in commissione l'emendamento è stato votato quindi entrerà nella legge finanziaria, a questo punto l'emendamento prevede che entro 30 giorni il ministro dell'università e della ricerca dovrà emanare un decreto ministeriale attuativo e all'interno di questa disciplina che noi ci andremmo ad inserire per poter accedere ai finanziamenti nel modo migliore sapendo che comunque siamo tra le realtà più importanti del paese.